Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale sono Dani e oggi siamo qui su Transport Fever 2. Nello scorso episodio abbiamo costruito la tratta ferroviaria che collegava l'aeroporto Gneventin alla città di Zacherin e oggi invece faremo la tratta invece che correga l'aeroporto Gneventin a ben mentarla. Ho pensato di farla passare per di qua qua dentro e farla arrivare qui. Quindi costruiamo una linea. Prima. Seconda fermata. Numero 2 vediamo si è messa la linea da per bene. Ok. Ok. Perfetto. Quindi andiamo a copiare queste qua. BAM mental. Aeroporto Gneventin. Togliamo questi spazi che sono sbagliati. Perfetto. E ora mettiamoci il treno. Intanto questa linea qua sta andando molto bene. Come vedete c'è 14 passeggeri sotto il trenino. C'è un bel po' di passeggeri e c'è il treno ogni 115 secondi. Insomma qua invece abbiamo ogni 3 minuti. Qua andiamo molti di meno di passeggeri. Si potrebbe accorciare effettivamente il treno. Per ora. tanto ne salgo solo una decina. Perfetto. Quindi abbiamo fatto il collegamento e ora prendiamo il treno. Ho già provato a vedere se i posti funzionavano. Queste lì non funzionano. Quindi noi dobbiamo prendere il treno qua giù. quindi. Pensavo di prendere questo qua. Io ho un TAM multiple elettrico. Di prendere questo qua. Dov'è? Questo qua. Eccolo qui. Lo mettiamo su questa linea. Tac. E lo buttiamo. E lo seguiamo. E scendiamo con lui fino ad arrivare alla linea. E la testiamo. Abbiamo incrociato il regionale veloce. Vediamo un po' che tratta fa. Non dovremmo ostacolare nessun treno regionale veloce. No, infatti non ce n'è nessuno. Abbiamo forse un treno davanti. neanche mi pare di aver visto. Neanche mi pare di aver visto. questo treno qua. Allora guardate la regionale. Speriamo di non avere un rosso che vada tutto diretto. con se ha problemi. E qua incrociamo la linea merci. Quindi. Tutto verde. Perfetto. Un merci. qui rallentiamo per le curve che ci sta la tratta qua. E qua invece abbiamo un regionale. Quello normale. Che parte dalla stazione. E lo costeggiamo per un po' perché tanto qua viaggiamo subire nei paralleli. Quanto solo i feri si ferma qua. Ora proseguiamo. Oh, per ora c'è andata bene. Non siamo fermati da nessuna parte. Non siamo fermati da dare precedenza a nessuno. C'è gente che aspetta. Regionale. Sono crashato. Perfetto. Torno subito. Niente scusate. Purtroppo il gioco non ha voluto che io. Continuassi il tour. e ho dovuto rimandare il treno di nuovo in corsa. Tutto quanto. Quindi niente. Saltato. Dove essere qui ora il treno. Ecco qua. Che interna in stazione. Vabbè. Continuiamo. Intanto il collegamento qui è questa, questa e questa città lo abbiamo. Ora. Se uno volesse venire da qua a qua, nel senso prende il treno qui, va qui, nel senso prende poi il transfer per l'aeroporto. Vogliamo collegarlo da un'altra parte? Ma io direi che questa zona qui va bene. Una, due, tre. Questa qui stanno insieme. Questa qua magari. Non saprei che dire. Ma basta così direi. Tanto qua alla fine seguo andare qua. Questa qua è in effetti però da qua mi deve forzare là con il treno regionale, con questo qui. Per forza andare là giù, devi che gli altri vanno tutti quanti su per di là. Questo qua va su per di là, tutti quanti su vanno. Tanto ti diamo questo, questo. Questo. Questa te ne lo so. Se c'è un po' più di ordine sulla mappa anche, non c'è uno casino. Quindi, cosa facciamo come l'ultima cosa? Allora, vediamo un po' il TPL qua giù, come è messo. Trasporto pubblico qua giù. Allora. Qua manca completamente il trasporto pubblico. No, appunto, non lo vediamo, esatto. Attiviamolo, perfetto. Qua le vediamo, vediamo un po' come siamo messi. Zacharyne a posto, qui si è ovviamente a posto. Monchow va a posto. Williamsfeld è a posto. Abbiamo un po' qui, Williamshoff qua qualcosa di scollegato. Che direi però di collegarlo. Fare, tipo, una linea qua. Che non c'è sta, vedo, non ci stanno fermate, esatto. Sta facendo il salvataggio automatico, quindi non me lo prende bene. Ok, questa qua l'ha caricato. Sta zona qua e farla collegare a questa stazione piuttosto che quella. No, è una stazione principale qua. Nel senso, facciamoci una linea qua, una zona di autobus qua. Siamo attaccate, ok, sì. Quindi, mettiamo giù qualche fermata. Prendiamo questa qua. Possiamo partire da qui. Possiamo andare qui. Possiamo una circolare, dai, che mi piace. Poi qui. Qui. Mi lagghicchia un po'. Qui. Ci vedo un po' a installare la fermata. Qui. Poi qui. E qui. Qui è una linea circolare che fa sta zona qua. La mia ci collega a tutte quante. Dove che abbiamo meno treni? L'autobus qua o qua? Perfetto. 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 E qua abbiamo Wilhelmshof come città, vero? Wilhelmshof, esatto. Quindi, Wilhelmshof... Wilhelmshofhof, off, bus, ecco qua, 0-3. Quindi il prossimo è 0-4. Perfetto. Poi, deposito. Quindi vediamo un attimo qua. Deve essere ben collegata, sì. Perfetto. Deposito, deposito. Doveva essere ce n'è qual su uno. E ci buttiamo dentro dei bus. Passeggero. Questi qua semplici. Mettiamo... Due, vanno bene. Perfetto. Bene. Poi, altre zone scollegate qui in zona. Lo abbiamo qui. Abbiamo visto questa zona qua. Che non abbiamo proprio autobus. E potremmo quindi ampliare da qua. O fare proprio una interna solo qua, così. Magari una che fa tipo da qui. Un giro così. Si gira tipo qua. Si può stare, dai. Quanto è che si colleghi con la zona lì? Boh. Allora, vediamo un po'. Fermate. Solo il cartello, mettiamo, sì, dai. Possiamo far girare l'autobus qui. Esatto. Andarlo di qua. Poi di qua. Di qua. 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 Qua giù. Qua giù. E poi direi, li facciamo girare qua sotto. Quindi facciamo fare un giro qua. Tac. Tac. E tac. Bene. Prima fermata. Qui. Poi qui. Poi qui. 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 Qua. Perfetto. Perfetto. E direi che li diamo, li assegniamo ai usedom questa linea, perché mi sa che qua passa a usedom, esatto. Usedom, bus, bus, 0123, ah ok, bus, 0123, 11, 12, e a questo punto questa qui diventerà 13. E ci buttiamo dentro dei mezzi sempre da qua, da qua scusate. Ci buttiamo dentro, un autobus se lo dato, vorrei mettere, ci buttiamo, scusate, CM Moderna, no. Questo qua, mettiamo dentro 3. Anche se è bella lunga lì, eh. Potrebbero non bastare, però in caso vediamo se... Tac, mandata. Bene. Quindi, per questo episodio vi direi che è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi ringrazio per essere qui con me. Vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e commentare se volete. Io vi ringrazio ancora per essere qui con me per l'ultima volta e ci vediamo tutti quanti nel prossimo episodio. Ciao. 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 Grazie a tutti.